Presidente, un bilancio positivo per il servizio di raccolta porta a porta che è l'inizio, comunque c'è stata una iniziale difficoltà nel mettere su una organizzazione che diventa complessa soprattutto alla luce della estensione del servizio alla città di Bari che avverrà progressivamente. È stata una bella sfida, diciamo che iniziare il mandato con questo cambio dei servizi e questa trasformazione rispetto agli abitudini esistenti proprio da parte degli operatori nel passaggio dalla raccolta alla strada al porta a porta ha richiesto uno sforzo davvero enorme sia dal punto di vista delle risorse che dei mezzi sia da quello organizzativo. È chiaro che questo ci ha aiutato perché ci ha reso più esperti e più capaci anche di prevedere quello che avverrà con l'avvio delle prossime zone. Abbiamo avviato con l'occasione anche una serie di processi innovativi, una riorganizzazione aziendale perché il porta a porta ha dato questi risultati ma il porta a porta riguarda oggi soltanto una parte della città. Sull'altra parte bisognava intervenire, migliorare e in molti casi anche modificare il servizio. Ciò che stiamo facendo e cui a breve inizieremo a dare anche all'esterno i primi segnali. Assessore Petruzzelli, il dato dell'80.15 di raccolta differenziata e porta a porta nei quartieri di Bari, nei quartieri periferici, è un dato estremamente positivo. Adesso questo circuito virtuoso si estende e quindi il servizio verrà esteso in altri quartieri. Dove? Noi stiamo per partire tra qualche giorno, il 10 di ottobre, partiamo nei quartieri Catino, San Pio e Palisse Macchie, tutto ciò che c'è al di là della ferrovia. E dentro fine anno chiudiamo con San Girolamo, Fesca e San Cataldo. Naturalmente non ci fermiamo qui perché abbiamo un cronoprogramma che nel 2018 prevede la chiusura della cinta esterna della città. Però, come abbiamo detto oggi, ci piacerebbe inserire a un certo punto la città vecchia perché è il cuore della nostra città, è il posto più visitato dai turisti che arrivano in città.